A Cibus 2021 anche Fabio Asti. Fabio Asti è lo chef per il servizio food service di Bonduelle. Fabio, ben trovato. Grazie, ben trovato a voi, grazie dell'invito. Allora, che cosa ne pensi intanto di questo Cibus 2021, questa insomma ripresa, finalmente ci si rincontra e quali sono un po' un attimo anche quelli che sono i tuoi progetti all'interno del gruppo food service di Bonduelle. Mi siamo convinti in Bonduelle, a prescindere dal ruolo che si rivesta, che gli stimoli possano arrivare un po' da qualunque angolazione e l'essere presente in questo momento in Cibus è proprio questo, la ricerca di stimoli ma soprattutto vedere anche un po' quali sono le innovazioni che arriveranno da un momento dove chi più chi meno nel bene e nel male il cambiamento l'abbiamo vissuto tutti. Certo, ecco appunto tu sei l'executive chef del reparto food service di Bonduelle, hai già avuto modo di vedere qualche cosa che ti ha colpito, che ti ha interessato, qualche novità? Beh sicuramente sì, c'è da dire che stiamo vedendo una forte attenzione da tutto il comparto diciamo del mondo del food service a quello che è l'alimentazione vegetale, quindi un abbracciare una parte di diciamo di mercato che è sempre stato presente nella ristorazione ma forse in questo momento sta cantando a gran voce la propria presenza. Rivolgiamoci un attimo al mondo della ristorazione, perché dovrebbero scegliere, tu che sei appunto uno chef, perché dovrebbero scegliere il vostro prodotto? Sicuramente perché sono prodotti sostenibili, nel senso che il mondo dell'alimentazione vegetale è indubbiamente un business alla portata di tutti, permette sicuramente di avere un food cost molto contenuto, cosa che diciamo argomentazione che per chi fa ristorazione diventa estremamente importante, ma soprattutto permette di essere sostenibile e questo è diciamo un'attenzione che in Bonduelle viene esplosa all'inesima potenza. Grazie allora Fabio e grazie Bonduelle. Grazie a voi.